No, allora, fermi tutti un attimo, allora, parlando seriamente, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo giocato, mercoledì è stato lo scritto d'italiano, sono venuto io di mia spontanea volontà a fare lo scritto d'italiano, la mattina dello scritto d'italiano mi avete detto che il giorno dopo c'era uno scritto di matematica, e la mattina del giorno dopo sono venuto a fare lo scritto di matematica, pensavo fosse finita e domenica sera mi arriva la telefonata che il lunedì mattina c'è la terza prova che non sapevo neanche che cosa fosse, Ma, poiché sono una persona gentile, educata e rispettosa delle regole, sono venuto a fare la terza prova, ma, ripeto, abbiamo giocato, scherzato, ma l'orale no, proprio no Vabbè, vado a studiare, domani c'è l'orale